Un bel colpo d'occhio, stavo seduto non vedevo la totalità della sala e intanto grazie perché siete davvero in tanti e fa piacere presentarsi davanti a un pubblico così numeroso. Io in questi giorni ho pensato molto a cosa dire perché ero emozionato e lo sono tuttora, allora ho preso qualche appunto ma sicuramente non riuscirò a dire tutto quello che mi sono prefissato ma abbiamo tre mesi di tempo quindi le occasioni non mancheranno per parlare, per affrontare diciamo i temi di interesse pubblico. Io comincerei intanto a dirvi questo, che ci ho pensato a lungo, ci ho pensato a lungo sulla mia candidatura e non è una frase di circostanza perché chi mi conosce bene lo sa, sa bene che ci sono stati dei momenti di riflessione negli scorsi mesi e nelle scorse settimane perché poteva sembrare una cosa scontata ma scontata non era, perché nella vita cambiano le esigenze, cambiano anche le prospettive, anche le prospettive di vita. Un anno fa ho aperto un'azienda agricola con alcuni soci che sta partendo e quindi bisogna dedicargli del tempo e sebbene che nel momento in cui c'è una cosa non ne puoi fare un'altra ma sono tante cose che cambiano.